Diciamo che dal tono delle lettere che intercorrono tra Biadene e May è quasi evidente che la donna non è così tanto preoccupata dell'ipoteca, di pagare, dei debiti. Cioè May è risoluta nella sua convinzione che comunque i debiti non sono i suoi, i debiti devono essere saldati con l'eredità, che si venda o che non si venda. E quindi vive a Cortina, si trova a Cortina dove sta passando con la figlia alcuni giorni. Quando arriva la proposta di Biadene, il quale le porta la proposta del comune di acquistare il palazzo per 17.000 lire e vuole sapere se lei è disposta ad accettare, Allora la donna comincia a pensare che avere un acquirente significherebbe avere un sospeso dell'asta. Perché comunque il palazzo è sempre praticamente a rischio, a rischio per l'asta degli arei di plant, a rischio per l'asta delle tasse che lei non paga perché non ritiene che le competano, a rischio dell'asta perché ovviamente c'è l'ipoteca giudiziale della suocera. Però nei confronti di Biadene, lei scrive, e siamo praticamente ormai a gennaio del 1903, che lei vorrebbe accettare la proposta del comune, però deve pure attendere il tribunale perché c'è sempre la questione di sua suocera. Ora, e c'è anche un'altra questione, lei vorrebbe rimanere ad Asolo e vorrebbe continuare a vivere nella parte cosiddetta Chiminelli, la quale comunque le spetta, diciamo così, per il contratto di locazione. E quindi ovviamente si preoccupa, dice, ma insomma io potrei anche vendere, però dobbiamo essere accorti perché c'è la questione di mia suocera, non dobbiamo cercare di farle togliere l'ipoteca prima di fare questa vendita, c'è poi però che ne sarà di me? Chi mi garantisce che poi il comune non voglia vendere la parte dei Chiminelli, cioè praticamente prima di dare a me la prelazione in qualche modo? Quindi si preoccupa che ci sia un accordo del municipio per vendere la casa Chiminelli, tra l'altro senza compenso che le spetterebbe per aver fatto dei lavori. E poi chiede anche, dice, ma poi ci sono anche le aperture, che abbiamo aperto le porte che connettono il palazzo con la parte Chiminelli, dice, per conto mio non mi dà fastidio, le possiamo lasciare come sono, ci mettiamo un catenaccio. Insomma, comincia a fare dei progetti nella previsione che possa riesca a vendere al comune. E scrive infatti all'Aggiunta che vuole entrare effettivamente in trattative reali, promettendo stavolta di pagare il mutuo plant. Cioè praticamente da una parte lei non vuole saldare i debili del marito, ma dall'altra di fronte alla possibilità di vendere finalmente, di chiudere questa storia, a 17 mila lire lei si propone di saldarlo questo mutuo, perché poi il comune si sarebbe comunque dovuto occupare delle altre, come dire, delle altre ipoteche. E a questo punto ovviamente bisogna far togliere quest'ipoteca giudiziale e la questione si prolunga e va avanti. May decide di fare un passo veramente che da una donna nell'età vittoriana non ci si aspetterebbe, va in causa contro la suocera, di nuovo. Praticamente fa una causa contro Wilma Le, residente a Berlino, la quale si deve far rappresentare in Italia, treviso dall'avvocato Bellincanta. May invece è rappresentata per sé e per la figlia minore dall'avvocato Vittore Pavanna. E a questo punto il problema è che May non è che vuole far togliere l'ipoteca, vuole far dichiarare nulla l'ipoteca giudiziale. Cioè praticamente e vuole addirittura il risarcimento dei danni che le sarebbero giunti dalla impossibilità di vendere allora al comune, poi a Penn Browning, dalla presenza di questa ipoteca giudiziale. Ora noi abbiamo sia la memoria dell'avvocato di Vilma che la memoria dell'avvocato di May. E l'avvocato di Vilma dimostra che May comunque gode della legge inglese certamente, ma al tempo stesso per un motivo che è quasi poco, non è chiaro, ha voluto e gli è stato riconosciuto anche il diritto della legge italiana di accendere, di accedere al beneficio di inventario. Ora quindi May vuole, è proprietaria per un terzo perché l'erede è per due terzi la figlia e questo è la legge inglese. Ma ha avuto anche il beneficio di inventario che, si dice, non ha accettato in maniera legale perché manca una carta poi, è una sottigliezza sulla quale l'avvocato insiste. Il beneficio di inventario è stato fatto addirittura dopo quattro mesi, non dopo tre. Dice, insomma, questa donna non avrebbe diritto a niente, non può chiedere l'annullamento dell'ipoteca giudiziale che è la conseguenza diretta di una causa che lei di fatto ha perso. E quindi ancora meno praticamente il fatto che lei voglia addirittura i danni perché non può chiedere dei danni per una cosa che fa parte della legge. Allora, quindi l'avvocato di Vilma nega che possa esistere un'accettazione beneficiaria tuttavia, come dire, questa causa in parte si risolve a favore di May perché riconosce a May il fatto della legge inglese, riconosce la validità dell'ipoteca giudiziale ma May in quanto inglese e in quanto beneficiaria della legge inglese non deve pagare alla suocera l'intero importo ma è debitrice nei confronti della suocera di un terzo dell'importo perché Vilma Marian e l'altra erede è minore e non può essere praticamente in questo caso toccata. A Vilma di quelle 12.000 lire ne spetteranno poco più di 4.000 e neanche tutte. A questo si arriva praticamente dopo ben due cause nel 1903 tra Vilma e Norman Neruda stavolta citata da May. Quindi si arriva a questa risoluzione. A questo punto, come dire, May sarebbe libera di vendere il palazzo e esiste una minuta di un preliminare che viene fatto dal Comune per l'accordo per 17.000 lire dove praticamente la venditrice poi, prima della stipula del contratto definitivo, si assume l'onere di provvedere a tutta la documentazione attestante la libertà dell'immobile. Sembra quindi che viene fatto un preliminare con il Comune ma nel 1904 gli eredi Marcon di nuovo citano con un atto di precetto May ancora una volta per la restituzione dei 7.000 lire del capitale e stavolta, come dire, la rata anticipata, insomma, siamo arrivati a 8.316 lire. Quindi non si capisce poi questo accomodamento quale sia stato perché di fatto sono nuovamente morose. Ci sono ancora degli arretrati. May non vive ad Asolo perché il messo comunale non la trova, la porta è chiusa e May si trova a Brighton. Il precetto viene trascritto nella Conservatoria il 20 novembre del 1904 e a un certo punto chiedono l'asta, un'asta pubblica dove la base d'asta deve essere di 1.800 lire con aumenti non minori di 50 lire e quindi addirittura si parla proprio di un'asta vera e propria. Ecco che quindi, come dire, è difficile che il comune potesse comprare a questo punto con un'asta che era già messa praticamente in piedi. L'asta si sarebbe dovuta tenere, questo per i tempi che sono sempre stati biblici in Italia, a gennaio del 1905. A questo punto May si trova nella necessità di dover affrancare mutui, ipoteche, ipoteche giudiziali e pagare le tasse. May però si ostina a non voler utilizzare i suoi fondi e quindi ancora una volta fa richiesta a Treviso, cioè al tribunale. Ricorre al tribunale dove comincia a dire che la casa deve essere liberata. Io la casa non l'ho mai potuta utilizzare dalla morte di mio marito anche perché mancava una persona che potesse farne conduzione mentre io ero fuori. Su questo palazzo gravano 637 lire di interesse, tassi, mutui, ipoteche varie ogni anno. Non ritengo che sia mio compito saldare né compito di mio padre. Ho già risposto improprio a molte delle passività anche per evitare il disonore a mio figlio di vedersi espropriare la casa ereditaria. Adesso mi trovo nell'impossibilità di saldare i debiti. Il prezzo che il comune mi propone è vantaggioso. datemi l'autorizzazione a vendere al comune perché il comune poi non è un compratore o un acquirente qualunque. Deve poi avere le autorizzazioni da parte di Treviso, della provincia. Il 30 giugno del 1904 arriva l'autorizzazione da parte di Treviso a May di vendere per pagare le passività. E le viene praticamente concesso di vendere il palazzo per 13.500 lire con le quali lei dovrà pagare le 7.000 lire che sono diventate 8.000 quasi 9 degli interessi plant. Poi 168 lire del debito di imposta perché è diventato di 329. cioè sono praticamente le tasse che lei non pagava le 500 lire dell'ipoteca Trasbuchelli e le oltre 4.400 quasi 4.500 lire quasi dovute alla suocera. Quindi lei deve vendere a questo prezzo. Ora, non sappiamo effettivamente per quale motivo non va in porto la vendita ancora una volta col comune che offre un prezzo maggiore. Probabilmente perché il tribunale la ferma e dice insomma devi vendere a questo prezzo e saldare. Lei fa un passo avanti, come dire, fa un passo oltre cerca altri acquirenti e trova, pare, nell'acquirente in Sebastiano Galanti. Quindi il 13 settembre del 1904 May fa un atto di prevendita con Galanti. Questo avvocato che era entrato nella polemica di mezzo portone di ormai praticamente 20 anni prima il quale si era sposato, aveva acquistato aveva avuto in dote dal suocero il bel vedere che il suocero aveva acquistato da Pen Browning quindi tutto torna, no? Il quale offre 14.000 lire sulla base delle 13.500 cioè praticamente si offre di pagare tutti i debiti e di vendere a May per 14.000 lire cioè May viene sollevata da tutti i problemi. Quindi in sostanza Galanti compra i debiti non solo compra i debiti di May togliendola praticamente da ogni problema ma compra anche il debito Plantle lui stesso compra il debito Plantle quindi raduna nelle sue mani tutto. Ora però nel frattempo le cose vanno avanti e il sindaco, siamo a gennaio del 1905 Vilma May ha ormai praticamente venduto e fuori da questo gioco ovviamente ormai si è tolta dalla situazione il passaggio è avvenuto nelle mani di Galanti Galanti a gennaio scrive al sindaco che quindi effettivamente è venuto in acquisto nella proprietà in maniera un po' particolare del Palazzo Neruda che diciamo non era sua intenzione tenere per sé ma cederla ad altri tant'è che aveva fatto riservare nel preliminare d'acquisto che avrebbe potuto presentare un altro acquirente al momento del rogito e della stipula soprattutto perché come dire era consapevole che c'era un'esecuzione da parte di un creditore ipodicario che quindi lo sollecitava a come dire a mandare avanti questa trattativa cioè a cedere il palazzo quindi Galanti fa offerta al comune formalmente di cedere il palazzo che lui aveva acquistato ma è così per 14.000 lire per 16.000 lire garantendo per tutta la parte giuridica e per tutta come dire la parte la conciliazione l'ipoteca e la libertà ovviamente impegnandosi quindi anche per la cancellazione di quest'ipoteca che tra l'altro nei confronti messa dalla suocera che lui riteneva comunque controversa comunque fatto sta che propone al comune questa vendita nel frattempo compra il credito anche degli eredi Plentl e quindi diventa lui di fatto creditore per 8.648 lire nei confronti del palazzo cioè che era il suo e a maggio a maggio del 1905 viene fatto il rogito definitivo in questo rogito però il comune non entra quindi in qualche modo è vero che Galanti aveva acquistato il credito aveva concentrato su di sé tutte le ragioni del credito Plentl ma non il comune o non accetta o interviene qualche altro problema di carattere personale perché il 27 marzo del 1905 viene scritto l'avviso d'asta ancora una volta eccetera eccetera per le tasse non pagati ma arriva anche non solo l'avviso d'asta ma arriva anche una comunicazione nei confronti di Galanti quindi è probabile che qualcosa non sia andato nel giusto verso tra il Galanti che ne aveva fatto proposta al comune il comune che sembrava disposto ad acquistarlo e poi come dire il fatto che ci sia stata comunque questa vendita dei beni diciamo queste avvisi d'asta che sono andati avanti e quindi forse il comune sperava di comprare il palazzo all'asta e quindi pagarlo meno e quindi Grazie a tutti